Si avvicina l'udienza del 2 novembre presso il Tribunale di Arezzo, giorno in cui partirà il processo, per l'inchiesta Coingas a carico di 11 imputati eccellenti, tra loro il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e il presidente di Estra Francesco Macri. Gli altri imputati sono l'attuale assessore al bilancio del comune di Arezzo Alberto Merelli, due presidenti di partecipate, Franco Scortecci per Coingas e Lorenzo Roggi di Arezzo Casa, un ex presidente Luca Amendola di Multiservizi, un consigliere comunale Roberto Breda Bardelli e noti professionisti come Pierettore Olivetti Rason, avvocato fiorentino, Marco Cocci, commercialista, Stefano Pasquini, legale del comune e la contabile di Coingas Mara Cacioli. Le accuse vanno dal peculato all'abuso d'ufficio. Il PM Roberto Rossi ha depositato la lista dei testi in tutto 32, quelli che chiamerà a deporre tra loro i parlamentari Maurizio Dettore e Stefano Mugnai, ex Forza Italia, oggi in Coraggio Italia, i sindaci di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, di Lucignano, Roberta Casini e di Monterchi, Alfredo Romanelli. In aula anche ex primi cittadini come quello di Civitella in Valdichiana, Ginetta Menchetti e di Sansepolcro Mauro Cornioli. Il processo si muoverà su tre filoni di indagine che riguardano le consulenze per Coingas da parte dell'avvocato Livetti Razon e del commercialista Cocci, la nomina di Francesco Macri alla presidenza di Estra e la nomina di Luca Amendola alla presidenza di Multiservizi. Sergio Staderini, ex presidente di Coingas, dopo aver scelto il rito abbreviato, è già stato condannato a due anni.